Questa prima iniziativa che abbiamo messo in campo è per metterci insieme a ragionare su questa nuova programmazione e quindi non solo un aspetto informativo e formativo ma anche un modo per conoscersi tra i vari amministratori e tecnici e programmare insieme lo sviluppo dell'area urbana. Ricordiamo infatti che questi seminari sono rivolti al personale delle pubbliche amministrazioni. Sì, in collaborazione sia con Calpar che fra un po' apriremo anche una collaborazione con l'università per quanto riguarda la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni. Abbiamo programmato questo ciclo di seminari che vuole rendere abili tutte le amministrazioni comunali a essere in grado appunto di presentare i progetti e quindi rispondere ai bandi di questa nuova programmazione 2014-2020 sia quella appunto a gestione in diretta quindi mediata alla regione sia ci auguriamo anche a gestione diretta presentando appunto dei progetti direttamente a Bruxelles. Fiorenza Gonzales per la CNews24